Siamo molto contenti di essere qui a Palazzo Cisterna oggi, sede della città metropolitana, insieme alla città di Torino e alla regione Piemonte abbiamo ospitato i nostri amici vietnamiti, una delegazione che viene da Ho Chi Minh. In realtà una città veramente grande, 12 milioni di abitanti, noi siamo contenti di essere qui e di poter, insieme ai rappresentanti presenti oggi sul territorio, poter avviare dei lavori che sono importanti. Crediamo che la città metropolitana di Torino abbia molto da condividere insieme a questa delegazione e crediamo che gli scambi culturali, sociali e anche economici siano fondamentali per il nostro territorio e quindi ci auguriamo che questi scambi siano sempre più profiqui.